siamo qui a vitri sul mare alla ceramica la fenice di francesco marciano e vi farò vedere come verrà modellato un polpo con i tentacoli tutti quanti interamente fatti a mano e questo è il risultato finale una creatura simpatica e allora vediamo un po cosa succede a Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.